E ciao a tutti ragazzi, io sono sicuramente, penso lo saprete, il vostro amico, io poi se, Eletro16 E oggi siamo in un nuovo video, volta scorsa avevamo visto i gemelli che ho messo nella loro zona E qua ho messo il portale e direi allora, direi già di andare dall'SCP di oggi Perché, che dobbiamo fare? Che poi mi sono anche scordato di sbloccare la conoscenza della Youngerl e del distributore del gatto Mannaggia, sono scemo E quindi direi adesso di correre, di andare piuttosto che correre, di andare con calma dall'SCP di A te chi ti ha invitato, scusi signor ragno Io ancora mi domando come spawnano i mob Mi sa che devo aumentare le lampade perché qua spawnano ancora di mob Vabbè, per il resto allora, direi che l'SCP di oggi è proprio, ma con proprio, dico seriamente, proprio vicino a casa Che sarebbe, eh, lì, eccolo lì Quindi direi di andarci subito Ok ragazzi, allora, eccoci qua, questa è la cella con l'SCP di oggi E' molto strano, sembra una piramide Detto fra noi Che dovrebbe essere se non è Poi il mio, oh, ok Il mio personaggio mangio Allora, nel fondo che cosa c'è? Potrebbe essere quello che io sto pensando che fosse Ma infatti È l'inchiostro, mi pare che sia l'inchiostro, eh Non è È l'inchiostro Eh, no Non devo Ok Sì, raga, è l'inchiostro Guardate, ink bucket Ah Se riuscissi a uscire dall'acqua Ok, prendiamo l'acqua normale Allora C'è là un po' strano Qua c'è una cassa, aspetta Che c'è? Eh Dai, allora Che è che mi attacca con zombie? Ma perché non muori? L'acqua lagga Qua lagga La ghiacchia il mondo Infatti si nota Dalla velocità Muori Ok, è morto Allora Stavo dicendo che qua c'è Un po' di roba che io mi prendo Assolutamente Abbiamo 64 torce Il che la vedo una cosa Molto Buona Quindi, allora Che carta richiede intanto? Una chiave di velo 2 Vabbè, dai, è accettabile Ed è un SCP Cater Che non ne vedevamo uno Da non so quanto Ah, da Da un po' di tempo Allora SCP 689 Sta laggando Ok 689 Nell'immagine non si capisce niente Ma Penso che molti si ricorderanno Del Hunter In the Dark Ovvero Il cacciatore Nell'oscurità Allora Qua che carta richiede Ecco una level 3 E infatti Mi ricordavo che la c'era Fatta così Qua una level 4 Ecco infatti Ci avrei scommesso Allora SCP 689 Pezzi di carta Una chiave Vai Le chiave di livello 3 Sono Bello che accettabili Possiamo aprire questa porta Ma non questa porta Perché fa schifo E questa la possiamo comunque aprire Vabbè Chiudetevi porte La ghicchia un po' minecraft Comunque Sblocchiamo la conoscenza del 689 Allora È una statuetta verde Se la guardi Sei condannato a morire Sì A meno che tu non continui a guardarla E non sei alla luce Infatti la cella È bello che Illuminata Perché Se tu sei nel buio SCP 689 Ti Ucciderà La sua cella Raga Ditemi voi Se non è illuminata È proprio La cosa più illuminata Dell'universo Quindi direi Direttamente Di entrare Allora Intanto Prima di tutto Voglio vedere Ok Eccolo lì E lo vedete E sta Sta qua Ecco qua Per chi ovviamente Non l'avesse visto Allora Direi di andare Allora Facciamo scivedere da lui Ciao Non lo so Effettivamente Eh vedete Non lo sto guardando Non sta facendo Mi pare Nulla Raga Attenzione Che instica Ok Allora noi Allora adesso Che noi Allora noi Lui ci ha visto A noi Ovviamente è un oggetto Quindi diciamo Che non ha senso Adesso direi Di vederlo noi Voltiamoci 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 Ciao Ciao L'ho intravisto Ok L'ho intravisto Qua E quando l'ha fatto Mi ha scritto You spotted SCP 689 Che in italiano Dovrebbe essere Hai visto SCP 689 Allora Eh C'è una cosa del genere Allora Mi sa che adesso Noi siamo L'abbiamo visto Quindi Se dovessimo andare Al buio Allontanarci Questo qua Dovrebbe Poterci uccidere Allora Proviamo a fare Un esperimento Ovviamente Qua la sperimentazione Ce n'è Ah Eh Ok Siamo Ah Che che è Raga E' comparso Di nuovo L'achievement Eh Recontain Recontieni SCP 055 Ovviamente Perché Mi pare Che ho Resettato Il mondo Ma Non sono Allo Spawn Mi sa Che abbiamo Attivato Lanter in the dark Raga Ci vediamo Fra poco Ok Ragazzi Allora Siamo Tornati Lanter in the dark E dietro Questo blocco Allora Da quel che abbiamo Capito Scrive You spot Ed SCP 689 E poi Dopo averlo Smesso di guardare Quando vai al buio Non lo sto Vedendo Se io faccio Così Ok Ancora Non Cioè Effettivamente Come Se io vado qua Ecco Adesso Mi è apparso Quindi Raga Se Non siamo Attenti Potremmo Morire Io intanto Allora Non dobbiamo andare qui Perché se no Moriamo Provo A spaccarlo Voglio provare Allora Spacchiamo con piccone Si può spaccare Sì L'ho distrutto Ok Tappiamo qua L'ho preso Si chiama Cacciatore Nell'oscurità 689 Che è appunto Il nome E il numero Dell'SCP Quindi raga Noi effettivamente Abbiamo SCP 689 Nel Nel nostro inventario Possiamo Allora io voglio Notare Capire una cosa Posso In qualche modo Trollarlo Nel senso Piazzarlo Ma non Venire ucciso Solo per sapere No 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 Diciamo che è un po' Impossibile Però Secondo me È possibile Voglio vedere Se io lo metto Qua Ho capito Raga Sto coso C'è una gravità Cioè Allora Potrei aver capito Come Non me Ah Eccolo qua Si è un po' Ok Allora Posso aver capito Allora Lui Ti uccide Lui raga È come l'incudine Cioè praticamente Ha una gravità Però quando Ti cade In testa Muori Infatti Qua Ha scritto Che è stato Schiacciato Da un muro Se io morissi Da un incudine Mi apparirebbe La stessa cosa Allora Io prendo Sto blocco Di ferro Perché secondo me È molto significativo Per l'SCP Entriamo Nel portale Ok Sto un po' Laggando Metto il blocco Secondo me Se io metto La statua Qua Potrei Non Ok Non mi pare Non è apparso Nessun messaggio In chat Facciamo R Ok Se lo guardo Dal vetro Non mi Non Non ha affetto Raga Mi sa che L'abbiamo Contenuto Mettiamo Il token Nel label E Il token Raga Cioè Se io Lo prendo Non si nota Che c'è Lui Però se lo piazzi Guarda Si vede C'è tipo Una cosa buia E poi c'è Il verde Che Sarebbe Lui Comunque Sono felice Di averlo Catturato Lo volevo Un po' Vedere Perché era Avendo visto Molti video Questo SCP Però a me Non è che piace Chissà quanto Perché è un po' Infamello Diciamocelo Però almeno L'abbiamo Catturato E sono un po' Fiero Di averlo Catturato Per il resto Qua abbiamo ancora Le farfalle Il catalogo E poi Vabbè Gli altri SCP Io ragazzi Direi che per questo Video è tutto Lasciate un bel like Iscrivetevi E da me Eletro 16 È Tutto Ciao